Intanto direi un Pescara che ha seguito il suo consiglio di ieri, fuori gli attributi direi che l'ha fatto. Sì, sono molto contento della prestazione dei ragazzi, al di là del risultato che poteva essere anche una vittoria visto le occasioni che soprattutto nel primo tempo magari abbiamo sbagliato nell'ultimo passaggio nella lettura della situazione e nel secondo tempo abbiamo sofferto inizialmente i primi 7-8 minuti, ma poi abbiamo preso il pallino in mano abbiamo fatto giustamente gol e abbiamo cercato di vincere la partita fino alla fine e non ci siamo riusciti per un pelo. Prima di andare all'episodio del 49esimo perché l'abbiamo vista indemoniata in panchina le vorrei chiedere quanto è contento di Marras dietro le punte, il primo quarto d'ora per noi è stato perfetto. No, no, è chiaro che è un ruolo nuovo per lui, però è un giocatore che lo può fare bene perché attacca bene lo spazio molto bravo nella fase defensiva nel ripiegare, può fare molto bene questa situazione qui perciò sono contento nel globale, non era facile cambiare il sistema di gioco, venire qua a imporre il gioco come abbiamo fatto nella prima parte della partita, peccato per certe situazioni sul gol che abbiamo preso che mi sembra sia scivolato Campagnaro, è scivolato il momento che lui ha chiuso il tiro però abbiamo avuto una buonissima reazione fino alla fine, abbiamo cercato poi di vincerla fino alla fine ma non ci siamo riusciti per un pelo, a noi i rigori contro ce li danno tutti e due anche se erano discutibili e mentre stasera non ce li ha dati. Ecco, prima di arrivare a quell'episodio voglio chiedere perché nei primi venti minuti del quarto d'ora del secondo tempo avete concesso così tanto a Foggia? Perché abbiamo cercato di aprirci e loro sono stati bravi nel colpizio contro il piede mentre dopo siamo stati più ordinati, abbiamo fatto meglio le cose e si è vista la squadra negli ultimi trenta minuti un altro tipo di squadra. Questo 4-3-1-2, c'è un pizzico di rimpianto per non averlo provato un po' prima? Magari qualche giocatore che ha scelto Lecce, mi viene da pensare, Tuminello con il doppio attaccante avrebbe preferito Pescara con più chance? Bene, adesso non guardiamo queste cose qua, se Tuminello voleva venire veniva e basta non teniamo fuori storie, noi abbiamo Monachello che sta facendo benissimo Una buona partita? Fatto molto bene Monachello, sono contento di lui, basta queste storie di chi veniva, di chi non veniva non me ne frega niente, io devo guardare avanti sono contento di Monachello, sono contento di Bellini, sono tutto contento di ragazzi che ho Lavoriamo con quelli che dobbiamo mandare avanti la situazione, basta con queste storie con queste polemiche che non c'entrano niente Se l'ho fatto arrabbiare un po', finisco di farlo arrabbiare 49esimo, Brugman a nostro giudizio completamente travolto dalle ali, lei è entrata in campo Secondo me è la rigore, anche se ne hai dato uno devi dare anche l'altro nel senso che noi domenica scorsa abbiamo preso due rigori incredibili a noi non ce li danno, anche se sei a Foggia su un campo difficile devi dare rigore anche se è il 94esimo sicuramente c'era, visto così, con la dinamica però pazienza, guardiamo avanti, guardiamo la prestazione della squadra guardiamo quello che abbiamo fatto di buono sono contento soprattutto della reazione che ha avuto la squadra sul piano caratteriale Questo è l'assetto definitivo, il trequartista? No, non c'è assetti definitivi lavoriamo settimana per settimana e poi vediamo